Ciao a tutti, sono Enzo e sono l'allenatore del Napoli per questa E-Champions su Football Manager. Siamo arrivati al giorno della vigilia contro il Barcellona a Camp Nou. Siamo pronti, siamo carichi, i ragazzi si sono allenati tutta la settimana, da casa naturalmente. Io anche sono sei giorni che non dormo, tutto questo grazie a Panoz, dopo Ashkemi, formazioni, su sei giorni che sto davanti al Football Manager. Ti ringraziano Panoz, mia moglie e i miei figli, mia moglie ha chiamato l'avvocato per il divorzio, ma detto questo siamo pronti. Siamo pronti e giochiamo con un 4-2-3-1 con in porta Meret, difesa di Lorenzo a destra, Manolas e Coulibaly centrali, a sinistra Mario Rui. I due mediani sono Demme e Allan, Demme era il mio unico dubbio, non sapevo se schierare Demme o Zilischi, ma in quel punto del campo ho preferito Demme per un maggiore copertura. I tre quartisti sono a destra Cagliò, centrale Fabian Ruiz, a sinistra il capitano Lorenzo Insigne, unica punta Driss Ciruzzo Mertens. Quindi, Mr. Callegari, questa è la mia formazione, veniamo lì per giocarcela. E niente, vi aspetto domani sera sui canali Panoz, YouTube, E-Champions, Instagram e Facebook. E forza Napoli sempre! A domani! Ciao! Ciao! Ciao!